Ciao io sono Tommaso e oggi vi insegno a fare questo con DaVinci Resolve in automatico Sì avete capito bene all'interno di DaVinci Resolve c'è un automatismo che vi permette di fare una color grading iniziale perfettamente adeguata alle vostre esigenze almeno per capire da che punto poter partire perché se siamo in una condizione di bilanciamento dei bianchi completamente sbagliata potremmo avere dei grossi problemi nel andare a lavorare prima di tutto però vi voglio mostrare come funziona il color grading ormai DaVinci Resolve lo conoscete siamo nella pagina edit all'interno della quale andremo ad importare le nostre clip che ci interessa andare a montare o comunque a graduare in questo caso togliamo gli audio perché tanto non ci interessa nulla lavorare sugli audio e ci spostiamo direttamente sulla pagina color guardate un po i miei file e vedrete che ad esempio su questo file abbiamo qui sugli scopes i canali r g e b che sono leggermente schiacciati sono leggermente schiacciati perché noi stiamo lavorando in s log 2 per avere una gamma dinamica maggiore per poter riuscire a tirare fuori da questa immagine il maggior numero di informazioni per poterci lavorare abbiamo varie possibilità di lavorare la prima è ovviamente mettersi lì e bilanciare uno per uno i vari canali in modo da ottenere appunto un bilanciamento totale per poi poter andare a lavorare su un look personalizzato o magari andare ad aggiungerci qualche lat che avete trovato all'interno di DaVinci Resolve gratuitamente o che magari vi siete acquistati o scaricati gratuitamente a seconda di quello che avete trovato online e di quello che avevate bisogno sono l'app dedicate alle sony sono l'app dedicate a qualsiasi tipologia di macchina anche alle gopro tra l'altro ce ne sono anche di gratuita magari qui sotto vi metto qualche link se noi dovessimo andare a fare un lavoro fatto bene e qui ragazzi se vi interessa all'interno del corso completo che trovate qui sotto su www.tomasocodolo.com slash corsi c'è una lezione di circa un'ora dedicata solo ed esclusivamente a color dicevo se dovessimo andare a bilanciare i nostri canali rgb dovremmo andare ad uniformare le tre onde tramite alcuni dei nostri scopes parade waveform vector scope instagram eccoli qui qui ne abbiamo quattro come potete vedere possiamo andare ad utilizzarli e in realtà io principalmente utilizzo il parade e il vector scope ogni tanto utilizzo anche il waveform se devo andare a visualizzare le onde più alte più basse per andare a fare proprio il bilanciamento del bianco iniziale rimaniamo solo ed esclusivamente con il nostro scopes e vi faccio vedere come andrei a lavorarlo io velocissimamente vi ripeto per un approfondimento sul corso trovate tutto quanto comunque vado leggermente a spostare le luci e vado a spostare le ombre e cerco di uniformare i canali rgb da così siamo già finiti a questa condizione qua vedete una bella differenza ok però siccome noi non vogliamo farlo in automatico perché poi potremmo andare ad aggiungere un nodo dove potremmo andare a dargli magari del contrasto dove potremmo andare a dargli un po più di dettagli e ad aumentare leggermente un boost della colorazione e già da qui andando sempre a rinominare i nostri nodi già così avremo una differenza notevole da prima a dopo vedete ok cancelliamo tutto quanto perché non ci interessa farlo in manuale perché lo andreste a vedere all'interno del corso e andiamo a farlo semplicemente in maniera automatica con un singolo pulsante un click ragazzi un solo click vi starete chiedendo qual è questo pulsante di tutta questa tastiera vi do un aiutino c'è la possibilità anche di trovarlo all'interno del menu sovrastante faccio comando z da per tornare indietro e lo troviamo all'interno del menu color se scendete 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 troverete questa impostazione che si chiama auto color che è all'interno della nostra tastiera con il pulsante c voilà questo vi occorre per iniziare a lavorare con la vostra immagine diamo un'occhiata gli scopes per non lasciare tutto al caso effettivamente vedete che cosa successo comando z per tornare indietro comando shift z per andare avanti vedete che semplicemente ha tirato su le luci e abbassato le ombre addirittura esageratamente dal mio punto di vista io non avrei lavorato così come avete visto prima io ero rimasto molto più sopra allo zero e molto più sotto al 1023 con la mia normalizzazione prendiamo qualcos'altro tipo questa color color ecco qui si vede molto bene il lavoro che va a fare guardate gli scopes la parade vedete come è sopra ai 128 e quasi sotto agli 896 se io vado a dargli la mia color automatica vedete come va a strecciare completamente e come va a creare a tirare fuori comunque tutte le colorazioni che ci occorrono perché va a dare una tonalità completamente diversa alla nostra immagine che prima era così ed è diventata così vi ripeto questo serve solo ed esclusivamente per avere un'idea di come andare a fare la color non funzionerà su tutte le immagini adesso io ho delle immagini molto slavate perché lavoro in slog quindi vedete che non appena vado a creare la mia auto correzione del colore riesco a lavorare molto bene se abbiamo immagini più accese non avremo bisogno di andare ad effettuare questa colorazione ma se lavorate con profili piatti log oppure se state utilizzando delle gopro con il protunativo e con un color flat questa è un'ottima soluzione per poter aiutarvi agevolarvi e iniziare a entrare nel mondo della normalizzazione delle immagini del color grading della color correction e perché no magari anche di un look style vi faccio vedere anche come si va ad inserire eventualmente un look style in questo caso vado a recuperarli dalle mie lat le lat le possiamo andare a recuperare magari qualcosa che abbiamo già pronto qui un eslog ok eslog 3 gamut eccolo qua magari creiamo un nuovo nodo quindi andiamo a inserire il nostro eslog che è un po troppo invadente invasivo quindi andiamo ad abbassarlo un pochino l'immagine iniziale era questa l'immagine finale è diventata questa e come è diventata una bella differenza magari per darvi un'idea ancora più evidente facciamo una cosa del genere così avete un'idea della doppia immagine bene ragazzi anche questo piccolo tutorial dvr pills di tommaso è terminato spero che vi sia stato utile questo pulsante c che vi permette di avere quantomeno un primo approccio con la color grading color correction e il bilanciamento dei bianchi per le vostre immagini ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ricordatevi di accendere la campanellina per poter rimanere aggiornati su tutte le uscite dei prossimi video ricordatevi che noi ci vediamo il martedì con la diretta il mercoledì con le videoproduzioni e il giovedì con i tutorial su da vinci resolve non mi resta che salutarvi ci vediamo con il prossimo video ciao ciao